Musica Domani è lunedì 13 agosto, la chiesa celebra tra gli altri Santa Filomena. Le previsioni del tempo di Telenuova, benvenuti. Clima, mite, un po' di nubi in transito al centro e sulle regioni adriatiche. Piovaschi, su Abruzzo, Molise, Puglia, sole, altrove e clima gradevole. Temporali in arrivo su Alpi, Prealpi, Piemonte, forti in serata verso il Basso Piemonte, la Lombardia, la Padania Centrale, colpito fortemente l'Ovest dell'Emilia e la Bassa Lombardia. Sulla Campania arriveranno in alta quota masse di aria più umida provenienti da Ovest che riusciranno ad entrare all'interno della struttura anticiclonica. Domani il cielo sarà nuvoloso, nel corso della giornata arriveranno da Ovest addensamenti nuvolosi che a tratti potranno causare anche qualche piovasco, più probabile sui monti. Le temperature saranno stazionarie, i venti deboli di direzione variabile con locali rinforzi, il mare sarà poco mosso.